Buongiorno, sono Michela Cremonesi, sono la responsabile della divisione Sales & Marketing di Antal. Saprete già che siamo una società di ed hunting, siamo specializzati nella ricerca di figure medio-alte. Nella mia divisione abbiamo competenze trasversali che vanno a seguire diversi settori di mercato, dal largo consumo al retail, fashion e luxury goods, fino al mondo dell'ospitality, al design e al redo. Quello che nasce dai confronti che spesso in questi giorni con candidati e clienti è che cosa oggi ci chiede questo mercato in fortissimo cambiamento e quali competenze possono essere poi vincenti. Sicuramente si è tanto parlato nel corso di questi anni di flessibilità e nella mia esperienza in selezione ho visto grandi cambiamenti in questa tipologia di attività, proprio nel modo di fare selezione del personale. Quello che posso dirvi oggi è sicuramente che questo tipo di caratteristica risulta assolutamente vincente. Quindi la capacità di adattarsi al contesto, di prenderne le risorse e soprattutto in questo momento formarsi e acquisire nuove competenze, lavorare su tutto quello che è la trasformazione in atto nel mercato e nel modo di fare diverse tipologie di attività sia nell'area e nella funzione commerciale, avvicinandosi sempre di più a quello che è il mondo e-commerce, quindi unendo competenze digital al mondo sales, nel marketing hanno andato ad avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le competenze dedicate al web marketing, digital marketing e alla gestione dei social media che come abbiamo visto in questo periodo hanno avuto una grandissima accelerata e questo vale anche per le PR e per la comunicazione, per cui vince chi veramente lavora su questo tipo di capacità e implementa anche le proprie caratteristiche personali nel gestire il cambiamento in modo slessibile, anche attraverso i canali online, si sta relazionale al meglio, quindi tanto più nelle nostre funzioni commerciali, marketing e comunicazione sarà una competenza vincente, anche quella di andare oltre al muro degli strumenti digitali e online. Vi aspettiamo con i vostri curriculum vitae per le nostre opportunità lavorative e vi ringraziamo. Grazie.